Come usare lo strumento Anteprima Annunci? Lo strumento Anteprima Annunci le servirà per verificare che il suo annuncio venga pubblicato su Google, senza incrementare il numero di impressioni. Può anche usarlo per visualizzare gli annunci se si trova in un luogo al di fuori della zona che il suo annuncio sta targettizzando. All'interno del suo account AdWords, clicchi sulla scheda Opportunità e nel menu di sinistra, selezioni lo strumento Anteprima Annunci. Inserisca una delle sue parole chiave. Poi selezioni un dominio Google, come per esempio google.it e selezioni la lingua impostata per targettizzare il suo annuncio. Selezioni la località del suo target. Ed infine, clicchi su Visualizza in anteprima gli annunci. Come vede, può visualizzare il suo annuncio come dovrebbe apparire nelle pagine dei risultati di ricerca su Google.